30 dicembre, sono tornato da una settimana di lavoro a Stromstad, ormai lo sapete, l'Isechi, l'altra città dove in questo periodo sto lavorando una volta ogni tanto, ma soprattutto sono tornato dal Milazzo Crime Book Festival, dalla prima edizione del Milazzo Crime Book Festival. E mentre ero fuori a lavorare o al festival, mi sono arrivati un po' di libri. Adesso è il momento di aprirli con voi, perché questo è l'undicesimo unboxing, un boxing più dieci, diciamo così. Allora, iniziamo subito, vi faccio vedere un po' di libri che mi sono arrivati, che alcuni li ho scartati, altri ce li ho ancora impacchettati, quindi li apriamo assieme e iniziamo con un libro che vi voglio far vedere perché lo prendo come un viatico, ma è una cosa molto particolare. Come vincere il premio tedeschi a cura di Roberto Mistretta, che sono, non è un manuale chiaramente, forse ve l'ho anche già parlato in qualche altro video, ma ve lo metto qua perché ha un significato. Interviste, commenti, presentazioni degli autori che il premio lo hanno vinto. Roberto Mistretta che egli stesso ha vinto il premio tedeschi un po' di anni fa, primo siciliano a vincere il premio tedeschi. E sono una serie di, c'è l'incipit, c'è una breve biografia, c'è un'intervista a ogni singolo vincitore del premio tedeschi degli ultimi anni. Una cosa interessante ve lo metto qua perché Roberto Mistretta è una persona che ho conosciuto adesso a Milazzo e più avanti ve ne parlerò. Anzi, cercherò di farvi un video proprio dedicato a questo bel festival del libro di Milazzo, del libro nero, del libro giallo, del libro noir di Milazzo, a cui ho partecipato e di cui cercherò di farvi appunto un video racconto se riuscirò ad avere i video che mi servono. Ma in questo viaggio, nel solito video senza montaggio lo sapete, ma in questo viaggio mi sono portato e mi sono letto, nel viaggio di aereo, di andate e ritorno dalla Svezia alla Sicilia e dalla Sicilia alla Svezia per tornare qua a lavorare, mi sono letto per intero un libro, un libro di cui vi ho parlato in un altro unboxing che è il primo giallo con protagonista Arthur Gelling scritto da Giorgio Scerbanengo, Scerbanengo, Rubadengo, Rubadengo, ovvero sei giorni di preavviso. Il primo con Arthur Gelling, io ve ne parlerò di questo libro, l'ho letto, ho messo un sacco di annotazioni, sto tornando un po' al cartaceo perché ho comprato troppi libri e bisogna che li legga anche in cartaceo e poi sto riscoprendo il piacere di leggere su carta, anche se le annotazioni a matita su carta sono più comode ma mi viene tutto più disordinato, devo cercarle pagina per pagina, perché le ho messe in quasi tutte le pagine e poi ovviamente condenserò. Ma comunque di questo libro ve ne parlerò, così come vi parlerò anche di questo altro libro che ho finito di leggere, Stella Nera di Marco Freccero, è una trilogia. Io ho letto solo il primo libro di Stella Nera, ovvero, adesso vi dico il titolo perché è importante, Le luci dell'Occidente, il primo della trilogia di Marco Freccero, Stella Nera. Mi è piaciuto molto fare un video come si deve, come si deve a un vero autore, a un vero scrittore, quindi con pregi e difetti di un libro così. E ve lo dico adesso, se mi prendo la briga di fare un video così, di un, non solo di un autore tra virgolette esordiente, perché non è un esordio di Marco Freccero, ma di un autore in self-publishing, vuol dire che Marco ha le spalle larghe così e vuol dire che un libro di questo tipo può sopportare anche un certo tipo di critiche, ma vi dico già adesso che è un libro che io vi consiglio di comprare. E vi dico anche un'altra cosa a questo proposito, io ho letto questo libro di Marco Freccero, non perché me l'ha regalato lui, non perché me l'ha chiesto, è una cosa che ho fatto io. E vi spiego anche una cosa, io stiamo parlando, stiamo chiacchierando, in questi video mi prendo la libertà di dirvi alcune cose che magari in altri video non mi viene da dirvi, ma ve le dico in modo da capire alcuni meccanismi anche di questo canale che ho chiamato Librarsi. Io molto spesso non recensisco, anzi mai recensisco, ho autori esordienti, come può essere Marco tra molte virgolette, perché ripeto non è un esordiente, ma non recensisco un certo tipo di autori. Per esempio non ho mai recensito Puligi, non ho mai recensito Morlupi, non ho mai recensito Oriana Ramunno, non recensirò mai un sacco di autori che sono in quel giro, in quella cerchia di persone che sono nei concorsi, che sono nelle giurie o che sono nei festival, che sono lì per un motivo molto semplice. Non mi va di sembrare uno di quelli che fanno i lecchini a destra e a sinistra. Ve lo dico chiaramente, io li ho letti anche alcuni di questi libri, ma non ve ne parlerò. Uno perché se mai, se mai dovessi parlare male di qualcosa non sarebbe giusto, perché non tutti hanno, diciamo, la dimensione per sopportare un certo tipo di critica e poi non mi fa piacere parlare male delle persone. Lo sapete, se parlo e mediamente per parlare bene evidenziano anche alcuni difetti che delle opere hanno, come farò col libro di Marco. Ma, in generale, io non voglio parlare male di alcuni autori, di alcuni scrittori, non sto parlando di questi che vi ho menzionato, ma in generale non mi va di parlare male di persone che hanno comunque una vicinanza col mondo che sto frequentando io. Allo stesso modo, ancora meno, mi va di parlarne bene, perché sembra che stanno andando là a fare le sviolinate, le lecchinate, a persone che magari sono nelle giurie o che hanno un ruolo importante all'interno dei festival, hanno dei ruoli nel mondo dell'editoria. Non mi piace. Io penso, e quello che ho fatto fino adesso è stato questo, che se devo essere premiato per qualcosa, se devo arrivare da qualche parte, è solo perché quello che ho scritto vale. Non perché ho fatto il lecchino, non perché ho fatto piaggerie, non perché sono stato là a fare i selfie, a fare le cose, a promuovere gente di cui non ho bisogno di promuovere. Non mi piace, non mi è piaciuto, non lo faccio, e questo è il motivo per cui di un sacco di autori o di persone che conosco non parlo. non mi va, non mi piace, non lo trovo etico, non lo trovo giusto, il che non vuol dire che non ci siano ottimi libri tra le persone che ho conosciuto in giro a questi festival. Ogni tanto ve lo dico, per esempio, vi ho parlato di Daniele, vi ho parlato di Cristina Biolcati, vi parlo di alcune persone, ma da qui a mettermi, a parlarvi di un loro libro, a fare una recensione, questo non lo farò mai, per i motivi che avevo appena spiegato. Quindi, Marco, non lo conosco, non lo conosco di persona, lo seguo come youtuber, ma non siamo amici, non ci sentiamo, non ci conosciamo, non è in nessuna giuria di concorsi, non è in nessun modo una persona che mi è vicina, è un autore di cui ho letto un'opera che mi è piaciuta, che trovo veramente valida, e vi farò una recensione come è dovuto agli autori, come si fa con i libri, senza piagerie, senza risparmiare niente, ma senza neanche concedere niente, se non è qualcosa di meritato. Questo ci tenevo a chiarirlo, lo metto in questo unboxing, in questo video unboxing, perché qualcuno di voi mi chiede ah, ma hai letto Morlupia, hai letto Puligi? Non li ho letti loro, tra l'altro, li devo leggere, ho delle cose in ebook, le devo leggere, ma non le ho ancora lette. Per il motivo che io i libri che leggo vi riporto pressoché tutti qua in video, e quindi se leggo un libro che poi non vi porto diventa un problema per la mia scaletta, ma comunque ho letture che non vi porterò qua per diversi motivi. Ho letto esordienti, ho letto persone che, non necessariamente esordienti, ma magari di case editrici medio-piccole, o comunque che hanno una scrittura, una diffusione di nicchia, quindi io con queste persone in nessun modo mi metto a discutere nei pregi e nei difetti. Quindi questa è una regola, nel caso che un domani qualcuno venga e mi dica ah, ma perché non parli del mio libro? Non lo farò, li decido io i libri da portare qua. Giusto o sbagliato che sia? Questa è la regola che mi sono dato. E proprio per questo motivo questo è un libro che mi è stato dato proprio al Festival di Milazzo dallo stesso Roberto Mistretta, ed è gelo, uscito nella collana Giallo Mondadori Big, che dovreste conoscere se avete seguito i video della storia del Giallo Mondadori, se non li avete visti guardatevi i video del Giallo Mondadori che ci sono qua sul canale, perché mi sono costato una fatica bestia, ve lo dico sempre, sono poco visti, ma sono dei video a cui tengo molto. Roberto Mistretta che è stato appunto alla presentazione di Milazzo, ci siamo visti, ci siamo conosciuti, mi ha fatto piacere, è una persona molto interessante che ha scritto un romanzo, quello lo voglio leggere, ma vi ripeto non credo che ne parlerò mai per questa vicinanza, per questa estrema vicinanza al mondo che io sto frequentando in questo momento, quindi di Roberto Mistretta non ve ne parlerò, ma è un giallista, capite che se è stato pubblicato nel Giallo Big un motivo ci deve essere. E questo è stato un libro che lui mi ha regalato in occasione appunto del Milazzo Crime Book Festival del 2024, la prima edizione, perché io sono andato là, come tutti i cretini che vengono dall'estero che vivono in Svezia, senza un euro di contante. Infatti stavo rimanendo bloccato nel casello che da Catania, da Messina porta a Milazzo, perché non avevo neanche due euro in monete e non c'era il pagamento col Bancomat e quindi avevo solo la carta di credito, la carta di debito, il Bancomat e non ho potuto comprarli al banchetto perché non c'era il POS. Stupidamente da italiano all'estero mi sono dimenticato che in Italia non tutto gira su POS, mia colpa. E quindi Roberto è stato gentilissimo e mi ha regalato questo suo libro che ho portato in Svezia, si chiama Gelo. Questa cosa è molto divertente. Ancora, adesso siccome vi ho detto che è un unboxing, arriviamo alle cose da unboxare. E la prima è questo libro che ho comprato su Ebay perché sto cercando piano piano di collezionare, una vera e propria collezione in questo caso, tutte le edizioni italiane del mio amato Colin Dexter. E quindi su Ebay ho comprato questione di metodo uscito con il Giallo Mondadori, quando ancora il Giallo Mondadori era su due colonne. Questo è un'edizione, vi dico anche, 23 settembre del 1990, costava 4.500 lire e in queste edizioni del Giallo Mondadori ci sono ancora, come vedete, le barzellette, le rubriche, eccetera, che è una cosa che è andata persa nel tempo purtroppo. Ma, insomma, io questi di Colin Dexter li sto collezionando tutti, ci sono qua, li sto riuscendo a recuperare praticamente tutti. Me ne mancano uno o due della Longanesi, un paio del Giallo Mondadori e poi alcune stampe e ristampe della Sellerio. Ma, insomma, una cosa da collezionisti, ci tengo ad averli. Poi, quando avrò la collezione completa, vi farò il video per farvi rivedere, per godermeli tutti assieme. Adesso, un altro libro che è arrivato, anche questo, comprato, se non ho visto male, anche questo, è di preso su Ebay. Sentite il rumore dello scartamento ridotto? Scartamento ridotto che mi treni. Questi impaccamenti, impacchettamenti, picplicamenti, ve lo faccio vedere mentre lo scarto. Vediamo se avete capito cos'è. Questa è una cosa che ho comprato per emendare un errore che ho fatto in un video recente, ovvero Roseanna. Vi ho detto che Camilleri ha portato Roseanna in Italia alla Sellerio. Ed era una cosa chiaramente inesatta, che mi avete corretto, vi ringrazio, perché è stata una svista abbastanza marchiana, abbastanza stupida. Chiaramente Camilleri non poteva averli letti in svedese. Quindi questi romanzi esistevano ed erano stati pubblicati dai Gialli Garzanti, dove questo, Roseanna, appunto, è una prima edizione. Che però, in questa edizione della Garzanti, dei Gialli Garzanti, è stato sottoposto a rimaneggiamenti come da sempre avviene nel Giallo, nel Giallo Mondadori. Anche questo ve l'ho detto nella storia del Giallo Mondadori. Dovete sapere che il Giallo Italiano, per vari motivi, spesso viene sottoposto a rimaneggiamenti, a tagli, a modifiche della traduzione, quando viene importato in Italia. E questo, Roseanna, era un Giallo che non era stato pubblicato nella sua edizione integrale. Questo l'ho cercato su Ebay, l'ho trovato e me lo son preso proprio per lavare l'onta del video che ho fatto, e per trovare modo di parlarvene, e anche per il gusto di avere questi Gialli Garzanti, che a me come edizione piacciono parecchio, devo dire. Hanno un bel formato, una bella copertina goffrata, credo che si dica il termine esatto. E, insomma, mi piaceva averlo, perché Roseanna è un romanzo a cui sono legato molto, sia perché parla della mia zona della Svezia, sia perché è qualcosa che, secondo me, ha un'importanza storica nel police procedural, eccetera, abbastanza importante. Questa edizione costava 400 lire dei Gialli Garzanti, ed è una prima edizione, se non mi ricordo male. Vediamo, non vorrei sbagliarmi, ma avevo preso proprio una prima edizione. E deve essere una prima edizione. Printed in Italy, 1973. Nel 73 un libro costava 400 lire. Prima edizione, giugno 1973, Gialli Garzanti. Ecco qua, quindi questo è un libro comprato per... Doveva essere di qualche libreria, tra l'altro, perché c'è il segno dello scotch con la targhetta, quindi questo è di qualche libreria dismessa. Libreria intendo biblioteca, scusate. L'ho comprato per lavare l'onta di avervi detto una fesseria, è perché mi piace molto avere queste edizioni così. L'ho trovato a un prezzo ragionevole, un bello usato, e quindi me lo sono preso. È un romanzo che mi piace molto. Quindi è chiaro che Camilleri, quando li ha riportati in Sellerio, conosceva Shoal e Valò, e Valò perché li aveva letti sui Gialli Garzanti. Quindi, Gialli Garzanti, Roseanna di Shoal e Valò. E questo è un altro libro che ho comprato in aeroporto a Catania, tornando da Milazzo per venire qua di nuovo in Svezia. Ed è una nuova... Ed è una prima edizione, anche questa immagino, perché è appena uscito, ed è uno di quelle raccolte di racconti che la Sellerio pubblica ciclicamente a partire dal 2012. Vi ho letto Il Capodanno del Cinghiale, dove tra l'altro è uscito anche la Catone, il primo romanzo con Manzini, di Manzini con Rocco Schiavone. E questa è una nuova raccolta che, secondo me, ultimamente stanno andando un po' a rilento, ma tirano sempre fuori, questi della Sellerio, qualche nuova voce, qualche nuovo autore italiano, partendo dai racconti. Da quando è morto Camilleri, capite, Camilleri, anche negli ultimi racconti non c'era più. E qua troviamo Jimenez Bartlett, che a me non piace, non ci posso fare niente, Petra de Riccardo non mi piace, Longo, che non conosco, Malvaldi e Bruzzone, adesso Malvaldi sta scrivendo con questa Bruzzone a quattro mani, e sono molto curioso di vedere come saranno le sue opere a quattro mani. Mercadante, che non conosco, Re Cami, la casa di Ringhiera, lo sapete, Gaetano Savatteri, è Tanzini, che non è Manzini, ma è Tanzini, che è una donna che io non conosco, e quindi ci sono un paio di nuovi nomi che mi incuriosiscono assai, e quindi l'ho preso con questa bella copertina dal titolo Animali in giallo. Chiaramente c'è una volpe, che è uno degli animali più belli, e qualche volta mi capita di vederle anche qua in Svezia. È un animale bellissimo la volpe. E c'è, tra l'altro, una cartolina come la Sellerio usa, stavo dicendo Bruca in svedese, come la Sellerio usa a fare, che è, vi scriverò ancora Andrea Camilleri. Quindi c'è un nuovo romanzo di Andrea Camilleri, che non so cosa sia, ma quando escerà questo, per forza lo comprerò, e chissà che non ve ne parli. Comunque, Animali in giallo, l'ennesima raccolta della Sellerio, di racconti della Sellerio, che io amo avere per il motivo che vi ho detto. leggete i racconti, leggete le racconti di racconti, leggete i racconti gialli, perché anche se oggi si tende a leggere queste cose sovradimensionate, questi thrilleroni da 600-800 pagine, e anche se la gente vuole sempre avere il malloppone, io penso che il racconto giallo, come vi ho detto, sia una cosa molto difficile da fare, molto difficile da fare bene, è una cosa che, quando è bello, il racconto giallo è una delle cose più goduriose che possiate leggere, perché si basa e si struttura attorno a un'idea che deve essere forte e fortissima, e possibilmente con dei personaggi memorabili. Io un po' tiro acqua al mio murino, perché sapete, sono in qualche raccolta di racconti, ma è da sempre che io leggo le raccolte di racconti gialli, e vi ho detto altre volte che il mio primo contatto in assoluto col giallo, di tutti i tempi, il primo racconto giallo, il primo romanzo giallo che ho letto, è stato Il Meglio dei racconti di Agatha Christie, che è un volume con un sacco di racconti, e io mi sono innamorato del giallo, leggendo i racconti di Poirot, di Tommy et Happens, di Miss Marple e così via. Quindi, il racconto giallo, una sua dignità sono, alcuni sono bellissimi, leggetevi i racconti gialli, questi della Sellerio e altre raccolte non importa, ma abituatevi anche a leggere i racconti, cercate di sostenere il mercato dei racconti. Ancora, sempre a Milazzo, qua vi devo raccontare un aneddoto, un aneddoto, come diceva Totò. Il pomeriggio di sabato, stiamo parlando di sabato 22, 22 del sabato 23 di novembre, c'era la finale, appunto, a Palazzo D'Amico, a Milazzo, di questo Milazzo Crime Book Fest 2024, la prima edizione. Io, mi sono preso un bed and breakfast, un brex, come diceva un collega medico, che avevamo trovato con un mio amico, in Guardia America, a Dorgali, un brex, ci aveva detto invece, un bed and breakfast, divertentissimo. tra l'altro, mi pare fosse siciliano questo medico. Questa Sicilia torna sempre, in qualche modo, nella mia vita. E comunque, da questo brex, mi dirigo, alla volta del Palazzo D'Amico, dove c'era il festival, alle 5 e un quarto, 5 e 20, sono uscito di casa, 5 e mezzo anzi, e sulla strada ho trovato una libreria, come non mettere il naso in una libreria, in ogni viaggio che faccio, mi fermo in qualche posto, e compro un libro. Ogni viaggio, io sempre, da sempre, compro un libro. E il libro che ho trovato, è chiaramente, un simenon, appena uscito, per la Delphi, che è Malenpain, 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 non lo so come si pronuncia, Malenpain, credo, in francese. E spero, e credo, che sia anche questa, una prima edizione, perché Malenpain è appena, è appena uscito. No, 2024, settima edizione addirittura, penso a quanto l'hanno ristampato. Comunque, Malenpain me lo sono preso, l'ho comprato, ho finito, come vi ho detto, 6 giorni di preavviso, e ieri notte ho iniziato a leggerlo, perché non avevo, avevo il Kindle, avevo altre cose, ma ho detto, dopo tanto che, tanto, non è tantissimo, ho cercato qualcosa per staccare da questa scrittura di Scherbanenko, di cui vi parlerò. E cosa c'è di meglio, di Simenon, di leggere Malenpain, Maledetto uomo, nelle prime 15 pagine, fa una descrizione di quando entra in casa di sua madre, di quando scambia due battute con sua madre, che è qualcosa da storia della letteratura, non so come dirvelo, c'ha una capacità, questo maledetto uomo, maledetto, ogni volta ve lo devo dire, di mettere tre pennellate, di fare, di descriverti quattro cose, salgo le scale, faccio quelle due cose, ma mette quel particolare che ti fa rivivere esattamente le cose che tu stesso hai fatto, che sia un odore, che sia un mobile, che sia una descrizione di un solo elemento e tu vedi tutta un'intera casa, vedi tutta un'intera persona, quest'uomo era un diavolo, non so come cavolo facesse questo Simenon, ne lo studio ogni volta e bisogna arrivare a avere la consapevolezza di scrivere così, io ci devo lavorare su questa cosa e ci arriverò non a essere Simenon, ma veramente a scardinare questo suo modo di scrivere e impadronirmene in un certo modo. di questa capacità che con un colpo di pennello lui riesce a farti vedere tutto, maledetto uomo, cosa vi devo dire? Malen Pen, un altro libro fenomenale di Simenon che arriverà su questo canale perché l'ho iniziato e lo finirò. Ma vi stavo raccontando questo, che erano le cinque e mezzo e dovevo andare alla finale di questo torneo, di questo festival di minazzo con il libro che avevo, con l'inedito che avevo in concorso, il romanzo Noir, La Gesominaia, che è arrivato tra i primi cinque. E quindi quando la signora ho preso questo libro, per puro caso costava 18 euro. Il 18 è un numero che mediamente mi piace. Io sono molto scaramantico, ma a certe cose non ci credo. Sento molto i numeri, ho molto l'esigenza dei numeri. E questo libro costava 18 euro, che è un numero che mi piace. È una data in cui, è la data in cui mi sono sposato, è un numero che mi piace. È molto vicino al 16, che è il mio numero preferito. Quindi vado alla cassa, vado a pagare 18 euro, pago col banco. Ma la signora mi fa, batte 17 euro, e io pago. Poi controllo di nuovo il libro, ero senza occhiali, ho avuto alletto male di fretta, controllo della 18 euro. E ho detto, signora, ma mi ha fatto uno sconto? Ho detto, sì, sì, un euro di sconto. Stavo per prendere lo sconto, e poi ci ho pensato, ho detto, no, sto andando a una finale, ci manca solo che Tokyo, che prenda un 17, da qui a mezz'ora c'è la finale. Gli ho detto, signora, guardia, ma pazienza, non mi dia un 17 stasera, sto andando a una finale per un concorso, abbia pazienza. Mi batto a uno scontrino da un euro, le soldi, e si prende a questo in più, così me lo fa pagare 18. Questa mia, guardate, mi ha detto, ma veramente? Sì, sì, guardi, non sto scherzando, glielo do, glielo do in contanti, lei mi dà il resto e siamo pari. Mi ha battuto a uno scontrino da un euro, e quindi l'ho pagato 18 euro. Sono cose cretine, no, però come diceva Edoardo, Edoardo De Filippo, la citazione era tipo essere scaramantici e da ignoranti, ma non esserlo porta male. Quindi io preferisco passare da ignorante che non esserlo, perché magari mi porta male. E quindi, alla fine, ho preso questo libro pagandolo 18 euro e la cosa sembra essere servita. Ancora, un altro, un altro libro che scarto, e lo scarto qua davanti a voi, perché questo è un momento importante. E' finalmente arrivato, mandato dalla Mondadori, il mio racconto, Ghelli, il caso Hitler, contenuto in questo romanzo di Stuart Palmer, un Oscar per il Degarde. Il Degarde, come vedete, nel retro c'è scritto qua in basso che c'è il mio racconto, vincitore del Miss Fest del Gragello Città e Cattolica, Ghelli, il caso Hitler. E sapete che avere in mano, finalmente, è passato un mese quasi dalla sua pubblicazione. Siamo al 30, quanto è oggi? 30 e oggi quasi 30 dicembre, 30 novembre. È passato un mese dalla sua pubblicazione i racconti del giallo e qua c'è la nota biografica e l'incipit di Ghelli, il caso Hitler. E guardate, io lo so che è strano, è strano, però vederlo, toccarlo con mano, perché anche se lo sapevo, anche se ho visto le foto, anche se ho visto tutto quanto, vederlo e toccarlo con mano e vedere il mio nome qua sopra il giallo Mondadori è stata veramente un'emozione troppo forte. Veramente, veramente troppo forte. Adesso che lo vedo, adesso che lo tocco con mano è una cosa di cui vado orgoglioso. Non è una cosa che dico spesso, non mi piace vantarmi, non mi voglio vantare neanche qua, però lasciatemi essere orgoglioso di essere finito sul giallo Mondadori vincendo questo concorso, vincendo proprio questo concorso. Sono veramente contento. Era un obiettivo che mi ero prefissato di finire sul giallo Mondadori. Non speravo nel grangello Città di Cattolica. È successo, sono felicissimo. C'è il video in cui ve ne ho parlato che è un video lungo con le premiazioni anche degli altri premi. Vi ho detto il premio di Marino, il premio Altieri e il premio importantissimo tedeschi che ho voluto fare, ho voluto ammettere, ho visato anche chiaramente i vincitori in modo che anche loro si possano rivedere in quel momento che hanno vissuto là sul palco del Miss Fest di Cattolica. Comunque, Stuart Palmer è un Oscar per il Degarde con dentro il mio Geli, il caso Hitler e un giallo che sono contento di avere nella mia libreria e questo lo mettiamo qua, anche se non lo vedete io me lo tengo qua alle mie spalle ed è stata una cosa veramente emozionante aprirlo e vederlo e averlo in mano finalmente. E tra l'altro questa è una copia omaggio che mi ha mandato giustamente la Mondadori perché come da contratto era previsto che mi mandassero una copia omaggio in quanto autore e quindi mi è arrivata per posta mi è arrivata mentre ero fuori e l'ho ritirata proprio stasera quindi l'avete aperto in anteprima. E adesso l'ultimo l'ultimo dei pacchi che mi sono arrivati vediamo vediamo questo cosa è vediamo se è quello che penso che sia perché ne manca ancora uno di pacco che non mi è ancora arrivato ma mi dovrebbe arrivare che è un altro di Colin Dexter che ho preso ma che non mi è ancora arrivato dai bei speriamo che non sia andato perso perché il pacco non è tracciabile speriamo di no e questo l'ho comprato ed è Sogni Noir della Fratelli Frilli Editore che è una raccolta di racconti questa che che ho comprato non mi ricordo più Libreo Universitario non mi ricordo più dove l'ho comprato se su Amazon o da qualche altra parte comunque questo è una raccolta di racconti è l'ottava raccolta di racconti che i fratelli Frilli pubblicano in memoria del padre Marco Frilli il fondatore della Fratelli Frilli Editore della Frilli Editore che è deceduto appunto otto anni fa e ogni anno esce una raccolta di racconti appunto dedicata a lui io in un video con Laura con Laura Giudici parlando appunto di questa cosa dei concorsi abbiamo fatto un video insieme una chiacchierata insieme ho detto che Marco Frilli era il fratello di Carlo Frilli errore dovuto alla mi sono documentato un po' in fretta e non lo sapevo ma o mi ricordavo male semplicemente però insomma questa è un'altra raccolta di racconti per farvi capire che io sono molto affascinato dalle raccolte di racconti anche perché qua ci sono un bel po' ottava raccolta di racconti in memoria di Marco Frilli c'è scritto anche qua nella prima nella prima pagina del libro a fianco al Crocon e ci sono diversi racconti di diversi autori e spero qua di trovarmi qualche nome interessante da leggere perché è sempre interessante ci sono tanti racconti Ansaldo Bellini Bellucci Bernardi Corben Ferrari Gamboji Polito Lombardo Maimone ci sono tanti nomi tanti racconti e questa è una cosa che mi interessa molto Roberto mi stretta anche qua che è un autore Frilli tra l'altro insomma ci sono molti nomi di autori ci sono di racconti credo che siano racconti molto brevi di due pagine tre pagine quindi ultra short anche qua che è una forma che mi piace moltissimo devo essere sincero un po' come la un po' come la 365 anche se questa è ancora più estrema perché sono un giallo di una pagina però questi racconti lo rimettiamo a posto questi racconti cortissimi ultra short o corti in generale di 3-4 pagine quindi dalle 2000 alle 6000 battute stiamo dicendo immagino che sia questa la dimensione forse fino alle 8000 non lo so mi immagino sia così una due tre quattro cinque cinque pagine stiamo parlando dalle 6 alle 10.000 battute penso che siano è una cosa molto interessante è una cosa che mi piace molto perché per scrivere un buon racconto ultra short in generale ma anche un ultra short giallo deve essere veramente abile ruotare intorno un'idea e scrivere qualcosa di molto forte quindi sono molto curioso mi piacciono queste cose autori vari chiaramente e non vedo l'ora di leggermi qualche cosa fratelli frilli che tra l'altro vi dico anche questa cosa e inizio da qui perché a questo ci tengo il mio romanzo la Gelsominaia di cui vi parlerò in un video a parte è risultato vincitore al primo Milazzo Crime Book Fest 2024 e questa è la bellissima mattonella la bellissima targa che mi hanno dato in quanto vincitore è stata una premiazione molto emozionante io questa non la lancio perché si rompe è stata una premiazione molto molto emozionante e c'è un video ma io ancora devo recuperarlo se riuscirò a recuperarlo lo spero così ve la farò vedere la vivremo la rivivrò insieme a voi ma la cosa importante è che in questa edizione il vincitore viene pubblicato dalla Fratelli Frilli e il mio romanzo La Gelsominaia a cui tengo moltissimo è di tutte le cose che ho scritto e di tutte le cose che ho pubblicato o che potevo pubblicare è la più personale è quella per me più importante di quelle che ho scritto fino adesso perché ci ho messo tantissimo di mio ci ho messo il mio scrivere se volete leggere il vero Claudio Pina cioè quello che Claudio Pina scrive senza i vincoli dei concorsi senza la necessità di pensare alla vendibilità o la come posso dire alla capacità di essere gradito dal mondo che ti deve pubblicare ecco io questo romanzo l'ho scritto perché lo sentivo perché era un'idea in cui credevo molto perché c'era una storia bellissima attorno che è quella delle gesuminaie di Milazzo e quindi l'ho scritto veramente come volevo io sapendo che è un romanzo difficilissimo da piazzare da vendere da proporre a chiunque perché perché il morto arriva dopo 60.000 battute che è una cosa che nel giallo non succede succede qualche volta ma non succede così spesso nel noir lo stesso non è semplice da far succedere anche se nel noir il morto con quel fatto veramente importante può arrivare abbastanza tardi è un racconto su due linee temporali un racconto molto particolare dove c'è una prima persona e una terza persona narrativa che si accavallano che si scambiano non è un racconto non è un romanzo semplice ma è un romanzo scritto esattamente come volevo io e l'ho scritto tre anni fa ci ho lavorato due anni fa l'ho rivisto eccetera è un romanzo che è passato tra le mani di editor importanti bravi come Massimo Franco anche Oriana Ramunno che ringrazio qua mi va di ringraziarli qua pubblicamente che lavorano per saper scrivere di Diego Di Dio ho avuto l'editing di queste persone che mi hanno valutato il romanzo e l'hanno migliorato io questo romanzo in qualche modo lo volevo far arrivare quando ho saputo che su facebook è arrivata la pubblicazione del concorso del bando per Milazzo Crime Book Festival non credevo ai miei occhi perché questo è un romanzo che ho nel cassetto da quasi tre anni almeno da due anni perché l'ho mandato al io scrittore adesso nel 2024 quindi ho partecipato alla fine del 2023 ma ce l'ho pronto tra il 2021 il 2021 l'ho scritto ce l'ho da tre anni nel cassetto l'ho lavorato l'ho rielaborato l'ho limato l'ho migliorato ed è una cosa in cui credevo molto ma difficilissimo da piazzare perché è un romanzo molto particolare per come è scritto vi ho detto per tutte queste caratteristiche che vi ho già detto quindi il fatto che abbia vinto un romanzo così mi ha riempito non solo di orgoglio e di felicità come è chiaro ma anche di speranza perché non è da tutti trovare un editore illuminato come sarà Carlo Frilli come è Carlo Frilli in questo caso che ha voluto premiare un'opera difficile come la mia e quindi capite mi dà molta voglia questa cosa che è successa e soprattutto mi dà la voglia di chiedervi quando uscirà questa cosa ve la ricorderò di acquistarlo perché se io non venderò un certo numero di copie il mio nome sarà bruciato perché la Frilli Editore è una casa editrice di un certo peso non è una major non è una grandissima non è una grande però è una casa editrice di dimensioni medie che ha tirato fuori grossi nomi della letteratura italiana gialla si occupa soprattutto di giallo quindi se volete aiutarmi in qualche modo non è per i euro e cinquanta quanto prenderò un euro di royalties non mi interessa ragazzi io ve l'ho detto potessi venderlo gratis ve lo venderei gratis non mi interessa niente io i soldi ce l'ho dal mio lavoro non monetizzo questo canale quello dei funghi che ho perché non me ne frega di prendere soldi da queste cose qua è chiaro poi se mi arrivano 90.000 euro di vendite vuol dire che ho venduto 100.000 copie è oltre la gioia c'è anche il ritorno economico che non è da poco ma non ambisco essere il nuovo Manzini non credo di esserlo quindi qualunque cifra mi entri non è per quello che scrivo non è per quello che vi sto chiedendo di comprarlo perché ho il mio lavoro io i soldi li faccio col mio lavoro di medico non mi interessano i soldi della scrittura quelli che verranno saranno guadagnati con merito quindi non è questo il discorso ma non voglio i vostri soldi per comprarmi cose voglio che mi leggiate e se comprerete questo libro quando uscirà ve lo ricorderò mi starete facendo un grande regalo perché se vi piace come scrivo se vi piace le cose che dico qua l'unico modo che vi chiedo per aiutarmi è comprare questo libro in cartaceo perché le copie cartacee danno valore alla mia pubblicazione e se la mia pubblicazione è di valore potrò continuare a pubblicare se non sarà gradito se il mercato non accoglierà la mia opera come si deve sarà un problema per me riuscire a continuare o meglio arrivare a continuare a scrivere con la Frilli o avere ambizioni ancora più grandi adesso vediamo io sono strafelice di essere con la Frilli perché ne ho sentito parlare sempre benissimo le cose che ho letto sono comunque scritti di qualità ci scrivono delle persone di cui io stima hanno scritto dei grandissimi giallisti di cui io stima di cui ho letto le opere che mi sono piaciuti quindi per me questo concorso di Milazzo voleva dire pubblicare con la Frilli era una cosa che mi ero messo in testa quando ho visto che il nome era quello infatti con la speranza di piacere a Carlo Frilli col mio racconto col mio romanzo sono andato a Milazzo proprio per questo motivo ho detto vinca o non vinca io con lui ci devo parlare e gli devo chiedere se mi pubblica perché voglio finire nella Frilli Editore che è una casa editrice che mi piace mi piace la filosofia mi è piaciuto a Carlo Frilli quando ci ho parlato e ripeto lo posso dire adesso a cose fatte prima non ve l'avrei detto adesso a cose fatte vi posso dire che è una persona che mi è piaciuta mi è piaciuta la sua mentalità mi ci sono trovato bene a lui è piaciuto chiaramente quello che ho scritto se no non avrei vinto perché tra l'altro la cosa interessante è che Milazzo Cranbull Festival partecipi con un racconto con un romanzo scusate che si chiama La Gesominaia le Gesominaia sono storicamente di Milazzo tu dici è certo che hai vinto parlavi di quello no perché Frilli è genovese e il vincitore tra la cinquina dei finalisti è stata decisa in prima persona da Carlo Frilli che è genovese che non gliene fregava niente della Gesominaia non lo deve vendere i siciliani questo romanzo lo deve vendere in Italia quindi per le malelingue non lo dico perché è chiaro che più uno pensasse la Gesominaia di Milazzo se è Milazzo o Milazzo Cranbull Festival e cosa volevi vincere con un romanzo che parlava di ma che ne so di Napoli o di Milano no non è questo il motivo quindi con orgoglio vi dico questa prima edizione del Milazzo Cranbull Festival l'ho vinto con il mio romanzo scritto come volevo io era quello che volevo da quando ho iniziato a scrivere vincere arrivare alla pubblicazione con qualcosa di mio che non fosse scritto con le accidenti di regola del mercato dell'editoria della vendita dell'immersività delle menate che vi dicono tutti quelli i san ma santissimi i santoni che vi dicono come dovete scrivere l'ho scritto come volevo io col mio stile col mio modo con le mie parole con la mia forma che non è commerciale nel senso stretto del termine ma che è leggibile e questa per me è stata veramente al di là di tutto al di là di quanto venderà per me questo è stato un sogno che si è realizzato quindi questa volta veramente con orgoglio non vantandomi ma con l'orgoglio vi dico che sono contentissimo di aver vinto questo Milazzo Cranbull Festival la prima edizione organizzata da Nino Genovese è stato veramente un momento bellissimo se potrò vi parlerò in dettaglio di questa serata vi farò vedere se riuscirò alla premiazione ma ve lo inizio a dire adesso ve lo ripeterò non so più quante volte comprate il mio libro La Gesominaia quando uscirà per i fratelli Frilli se mi volete dare una mano ripeto non se mi volete dare i vostri soldi ma se mi volete dare una mano se vi piacciono questi video se vi è piaciuto qualcosa che ho scritto la Uldra per adesso il racconto che c'è su 365 la limonata il racconto che c'è in letteratura noir no 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 il racconto che c'è in giallo giaveno la madonna del manganello anche questo è un racconto di cui sono molto 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 contento perché è un racconto su cui ho fatto tanta ricerca se vi è piaciuto Sherlock Holmes uno studio in giallo che ho pubblicato con 11 diritti e qualche disgrazia di gialli.it o chiaramente ancora di più se vi è piaciuto penso che questo l'abbiate letto forse in un po' di più di persone se vi è piaciuto Galey il caso Hitler pubblicato col giallo Mondadori vincitore del gran giallo città di cattolica beh se avete letto qualcuna di queste mie scritture per non parlare di giallo in forma di rosa che trovate lassù di cui sono lo stesso orgoglioso e felice ma è una follia letteraria se avete letto qualcosa di questo e vi è piaciuto l'unico modo che avete per mandarmi avanti è quello di comprare il libro che uscirà per Carlo Frilli dal cui titolo provvisorio è La Gelsominaia io vi faccio rivedere ancora una volta forse l'ho messa anche al contrario la bellissima mattonella decorata in Sicilia chiaramente come le ceramiche di Caltagirone ve la faccio vedere e chiudo con un altro aneddoto perché sapete quando gli astri si allineano in quel modo puoi fare quello che vuoi ma non c'è verso i dettagli ve li racconterò in un altro video ma in aeroporto proprio per portarmi dietro un ricordo duraturo di questo viaggio a Milazzo in aeroporto a Catania perché non potevo chiaramente prima dell'imbarche ho comprato una bottiglia di vino e l'ho comprata chiaramente col decoro di Caltagirone col motivo classico siciliano ho preso il giallo per via del giallo e l'ho portata qua da mia moglie e ho detto beh adesso uno di questi giorni brindiamo questa vittoria e apriamo questa bella bottiglia che poi ci conserveremo beh non ci crederete Giudeca azienda viti vinicola Caltagirone Sicilia chiaramente per il decoro ceramica di Caltagirone vi faccio leggere chi l'ha fatta perché questa cosa l'ho vista adesso quando l'ho aperta con mia moglie Mario Milazzo non ci potevo credere ragazzi vi giuro non ci potevo credere l'ho presa in aeroporto l'ho infilata nella busta me la sono fatta impacchettare l'ho portata l'ho aperta adesso Mario Milazzo no cioè capite non ci posso credere quando vedo queste cose poi mi partono gli emboli e divento palloso ma non ci potevo credere Mario Milazzo mi capite quindi chiudo qua perché divento palloso è l'undicesimo unboxing quindi chiudo qua vi ho fatto vedere vi ho scartato di fronte alcuni libri che mi sono arrivati alcune letture alcune cose un put purì di ricordi di emozioni di cose che mi sono arrivate di cose che ho letto e di cose che sto leggendo e di cose che leggerò spero di avervi tenuto compagnia anche stasera ci vediamo con un prossimo video un prossimo video Grazie a tutti.